Il censimento permanente torna sui banchi di scuola. Riparte la sfida a colpi di statistica per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Per alunni e insegnanti è il momento di conoscere i risultati delle rilevazioni del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e scoprire come sta cambiando il paese. La sfida quest'anno è doppia, con le censigare e un nuovo concorso creativo. Per partecipare, gli alunni dovranno, prima di tutto, misurare le proprie conoscenze attraverso un quiz. Che cosa sono i censimenti? Come sono cambiati? E cosa ci permettono di conoscere? Il punteggio ottenuto servirà alla classe come extra bonus nel contesto finale. Poi sarà il momento di mettere in pratica quanto imparate. I dati e le informazioni statistiche acquisite serviranno agli alunni per raccontare il proprio territorio attraverso un progetto creativo, efficace e diretto. Un'istantanea della propria realtà. Partecipa al contest!